Questa non è un intro, mettete mi piace. Questa non è un intro, mettete mi piace. E tu che cazzo sei? Il tuo prossimo incubo, ah 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 ah. Ah, finalmente ho fatto qualcosa con il limone e non c'è niente di peggio che mi possa capitare, quindi posso dormire sonni tranquilli, finalmente. Ecco che è? Oh, no regà, no, no, no! Ma poi ti giuro che mi faccio un gardone di una settimana per farlo, questo cazzo di video, veramente. Sì, prova. Provate, sono un po' di... Prova anche tu, grazie, io mi vendicherò. E anche tanto, e anche tanto bene. Preparati. Porco il lomo. Porco il lomo.